Capitolo 17 degli Atti degli Apostoli Gesù di Nazareth l'ha creata per questo L'avventura continua anche qui nel nostro mondo Buonasera, benvenuti alla terza puntata dell'Areopago Qualcuno di voi mi ha chiesto Ma come mai ancora con Monsignor Giacomo Panfilo Arciprete e merito della parrocchia di Crusone Perché squadra che vince non si cambia, ma questo sicuramente è un po' autoincensarsi. Buonasera, Monsignore. Buonasera. Seconda puntata sul Papa, perché questo Papa è sicuramente fonte di tanta discussione piacevole, tra l'altro. Monsignore, nella prima puntata sul Papa, lei mi disse, questo Papa è sconcertante. Ritorniamoci, perché quando lui... ma ritorniamo sullo sconcertante. È un Papa sconcertante, ci tengo a ripeterlo perché ci troveremo di fronte anche a delle sorprese in questo senso qui. È sconcertante perché è fuori dagli schemi. Ed è sconcertante, lo dico in senso positivo, perché scuote. E sconcertante direi in primo luogo per quelli di chiesa, perché ha un modo di porsi diverso dal solito, ha un modo di parlare diverso, dice cose in un modo che è insolito, e suscita problemi per queste cose qui. E quindi sconcerta. Lo dico in senso positivo perché se ci lasciamo sconcertare noi di chiesa abbiamo tutto da guadagnare. Lo ripeta per favore, lo dico in modo positivo perché voi di chiesa se... Siccome sto dicendo che il Papa sconcerta innanzitutto noi di chiesa, se ci lasciamo sconcertare abbiamo tutto da guadagnare, ma il Papa sconcerta anche quelli non di chiesa. Chi avrebbe pensato che avrebbe risposto alle domande un po' impertinenti di Scalfari? Ha risposto. E l'ha ricevuto anche in udienza. Hanno dialogato tra di loro, seduti attorno a un tavolo, con molta spontaneità, e sconcerta perché i mezzi di comunicazione sociale e gli intellettuali, come già notava lei la volta scorsa, nel fare i paragoni tra i Papi, e di solito nelle puntate dei papati precedenti vantavano il Papa che era morto per buttare giù quello che è vivo. Ecco, allora invece stavolta succede il contrario. L'opinione pubblica è tutta per lui e i mezzi di comunicazione sociale, che sono sempre molto corrivi, ci vanno dietro. E dovranno cambiare secondo me perché a un certo punto io ricordo una all'inizio quando Ferrara, che non è colato giù dal cielo pasquale, diceva al vaticanista di Repubblica vorrò vedere tu cosa scriverai quando anche questo Papa dirà che l'avorto è un male e che c'è il male nel mondo e che certe pratiche sono immorali. Io lo seguo, Monsignore, come tutti gli altri, forse un pochettino di più in questi giorni perché devo preparare le trasmissioni, ma ritorno alla sua prima predica ai Cardinali, brevissima per prima con tre verbi, credere, confessare, costruire. Mi piacque moltissimo perché fu riportata in toto dal Corriere della Sera e mi piacque soprattutto il suo modo di predicare, breve, conciso, preparato, d'accordo che è il Papa, mentre alcune volte, non voglio essere riverente, ma mi piace fotografare le situazioni giornalisticamente parlando, ci sono alcune prediche, le prediche, e so che lei su questa cosa non è d'accordo, le buttano lì, non le studiano, non si allenano, non le preparano. Bene, facciamola lì. Il discorso del... Colgo innanzitutto una provocazione in quello che dice le prediche brevi, le prediche... che l'ha letta integrale sul... Una cosa importante da fare quando si discute di parole del Papa, eccetera, è quello di andare a vedere quello che ha detto veramente. Perché i mezzi di comunicazione sociale hanno la tendenza di estrapolare, tirano fuori una sola frase e basta. Mentre bisogna vedere l'insieme. Faccio un piccolissimo esempio. Sull'intervista che ha dato sulla radio, sull'aereo, quando tornava da un viaggio, gli han chiesto sui gay. E lui una delle frasi che ha detto, ha detto, chi sono io per giudicare, per condannare un gay? Chi sono io? Ecco, finita lì la frase nei giornali, ma la frase nell'intervista non era così. Lui ha detto questo, ha detto, quello che preoccupa me sono le lobby, quello che preoccupa me è che bisogna tenere insieme, guardare tutto l'insieme, e ha citato quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Vedendo tutto l'insieme, è sbagliato dire che, quindi, quindi al Papa van bene i gay. Lui dice, io non li condanno, chi sono io per condannarli? No. Gesù stesso all'adultera dice, io non ti condanno. Però alla fine dice, adesso vai a casa e non peccare più. Ecco, in ordine alle prediche di noi preti, lei ha usato diversi verbi. Io ne sottolineerei tre a riguardo di quello che il Papa, per esempio, insegna a me. Studiare, preparare e allenarsi. Ci vogliono tutte e tre quelle cose lì. Cioè, quando si vede il Papa che usa certe frasi incisive con una spontaneità grandissima, si dice che ha il dono della parola. Ed effettivamente. Però, il Papa, in questo senso qui, è come Balotelli, come Pirlo, come... Quando tirano le punizioni, che fanno dei gol strepitosi, sembra che sia la cosa più normale. Quelle cose lì sono preparate con allenamenti tremendi, pur avendo loro la predisposizione. Ecco, il Papa è uno che sicuramente ha studiato il modo di esprimersi, il modo di esporre le cose. E qui dovremmo impararlo anche noi. Secondo me c'è poco esercizio in questo senso. Monsignore, Noi abbiamo lanciato da qui l'invito a tutti i nostri telespettatori a darci degli spunti. Sulla base di questo, incontro un amico, poco credente e nulla praticante, che ci segue in ogni puntata, che mi dice questo Papa è pericoloso. Io ho strabuzzato gli occhi e dico come è pericoloso. Tutti coloro che sono trascinatori di folle sono pericolose. E usa un esempio che veramente è sconcertante. Dice Hai presente Hitler? Hitler fu un trascinatore di folle. Il Papa non sarà certamente Hitler, quindi non porterà al male, ma questo trascina le folle. Oddio, l'esempio portato da questo suo amico è sconcertante davvero. direi che poteva anche risparmiarselo, perché se lui guardava un po' in giro i trascinatori di folle sono tanti, anche in senso positivo. Gandhi, per esempio, Kennedy, Papa Giovanni, Papa Giovanni, ma Gesù stesso. Gesù stesso, dice, il Vangelo era seguito da folle numerose. Ecco, facendo il paragone su Gesù, Gesù non cercava il favore popolare. Mentre i trascinatori, i cosiddetti leader politici più seguaci hanno meglio è, a un certo punto Gesù, dice il Vangelo di Luca, vedendo che molte folle andavano con lui, si girò e disse ma voi avete capito bene. Avete capito bene che venire con me vuol dire prendere la croce tutti i giorni. E nel Vangelo di Giovanni, quando i discorsi si fecero impegnativi, molta gente lo abbandonò. E lui rimane lì con pochi, tra i quali gli apostoli e poco più. E Gesù, invece di richiamare gli altri e dice guardate che non avete capito bene possiamo metterci d'accordo, dice volete andarvene anche voi. Posso fare una digressione? Io ho una persona che fa il sacerdote che adesso non esercita più quindi non esercita più che è merito che bravissimo perché è molto bravo negli atteggiamenti in alcune occasioni qualcuno ha detto e ma c'ha un carattere quindi secondo lei intimamente questo sacerdote esprimeva il volete andarvene anche voi. Le interpretazioni possono essere possono essere tante può essere semplicemente cattivo carattere oddio che poi dopo uno fa anche il possibile per correggersi e oppure può essere anche una cosa così volete andarvene anche voi io non 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 arrivo al limite al limite di un vecchio parroco che io ho conosciuto che dopo essersi speso per la sua gente a un certo punto dice sentite io tutto quello che potevo fare l'ho fatto volete andare andare all'inferno ditemelo che vi do una pedata anch'io non so se avete capito chi è quel mio sacerdote conoscente o conoscente sacerdote un altro amico di cui parlerò dopo ah si? si si allora un altro amico mi dice chiediamo a un signore il papa scomunica un sacerdote favorevole al sacerdozio femminile e dimentica sistematicamente di scomunicare i preti pedofili dunque a me piacerebbe qui innanzitutto chiederle dove ha letto dove ha sentito che ha scomunicato un prete che cosa faceva che voleva il sacerdozio femminile ecco prima di tutto perché le scomuniche a parte quelle come si dice latte sentenze che sono previste dal codice sono quasi del tutto sparite a partire da papa Giovanni quindi dove l'ha letta sono molto in ritardo io dico che non l'ho letta io l'ha letta lui quindi non c'è è impossibile non c'è però ragioniamoci lo stesso no no beh ci ragioniamo però se si parte da premesse sbagliate il papa non ha scomunicato nessuno e per quanto riguarda i preti pedofili ha ribadito la posizione precedente e sa qual era la posizione precedente tolleranza zero va bene chiuso rispetto al matrimonio perché c'è un quasi un divertimento di voi no ma poi ne parliamo del matrimonio prendiamo solo le parole del papa di voi a parlare di matrimonio lui dice che le chiavi del matrimonio sono tre permesso scusa e grazie bastassero solo quelle monsignore andrei a comprarle se lei le comprasse vedrebbe come va bene il suo matrimonio magari va già bene però quelle tre parole lì del papa sono parole fondamentali permesso vuol dire posso lei dovrebbe dire a sua moglie posso no e sua moglie dovrebbe dire posso scusa io conosco delle persone che non hanno mai chiesto scusa in vita loro io mi domando in un matrimonio dove non si dice mai scusa come può andare avanti così per esempio grazie il dire grazie è il riconoscere che si è ricevuto un dono è riconoscere che si è arricchiti dall'altro e quindi lo si appunto lo si riconosce la riconoscenza è uno degli atteggiamenti fondamentali del matrimonio io dico che se in tutti i matrimoni ci fossero queste tre cose non ci sarebbero mai divorzi la FAO sta a Roma il papa in occasione di una lettera che scrive al presidente la FAO dice è scandaloso che ci siano fame e malnutrizione nel mondo bisogna ripensare e rinnovare i sistemi alimentari in una proposta solidale buono il primo verbo ripensare ma rinnovare non è che sto papa è un po' rosso comunista ecco l'etichettatura di comunista viene data da una certa parte da destra a tutti quelli che si interessano di progresso di cambiamento di giustizia sociale io qui ricorderei un mio carissimo amico Monsignor Santo Quadri che era arcivescovo di Modena una città che più rossa di così non si può pensare era poi stato prima a Terni altro capoluogo di rosseggiante e lui diceva a questi comunisti delle sue diocesi io non vedo perché sia necessario essere comunisti per dire di occuparsi della povera gente degli operai mio papà dice era democristiano membro del consiglio pastorale catechista andava a messa tutte le domeniche sindacalista e impegnato nel sociale qui Monsignore anche il comunista ecco perché lui usa rinnovare addirittura ha osato parlare di rivoluzione questo papa no? proprio ha usato questa espressione facendo capire così che nonostante che lo accusino qualcuno lo accusi di essere di destra addirittura qualcuno è arrivato a dire che era amico di Videla ho letto ecco è più vicino alla teologia della liberazione di quanto si pensi tant'è che lo si è saputo ha ricevuto recentemente e ha concelebrato in Santa Marta con padre Gutierrez il padre della teologia della liberazione quindi non è necessario tirare in ballo il comunismo si può essere per la giustizia sociale si può essere impegnati nel sociale senza essere comunisti una delle frasi usate dal Papa perché non è sua chi fa la carità a un povero fa un prestito a Dio che gli ripagherà ampiamente la buona azione non è del Papa è tratta dal libro dei proverbi 19, 17, 18 una roba di questo genere strano dovello strano perché fare un prestito a Dio mi sembra mi sembra di altissimo livello fare un prestito a Dio vuol dire che il donare è il dare all'altro no? è il dare all'altro gratuitamente l'altro può essere con la minuscola per esempio lei è un altro rispetto a me ma l'altro con la maiuscola è Dio però quando io do a un altro anche con la sono già aperto all'altro con la maiuscola e alla fine dei conti Dio è è grandissimo quindi nel ricompensare supera in abbondanza infinitamente quello che noi possiamo dare perché poi noi diciamocelo chiaro spesse volte diamo soltanto qualche cosa di nostro mentre lui ha dato tutto se stesso io una volta in una predica commentando la frase che c'è più gioia nel dare che nel ricevere ho detto a un bambino se io ho due caramelle e te ne do una alla fine ho di più o ho di meno e lui mi dice hai di meno perché avevi due caramelle e ne hai una no? secondo Gesù io ho di più secondo te Gesù non conosceva la ritmetica e lui stava lì a guardarmi gli ha detto adesso ti faccio un ragionamento se io ti do una caramella è vero che io ho una caramella in meno ma ho un amico in più che vale molto di più di una caramella i sacramenti sono gesti del Signore non sono invece prestazioni o territori di preti e vescovi è sempre il Papa che lo dice sarà Monsignore ma se mi viene in mente un sacramento io non lo chiamo territorio lo chiamo feudo si chiama la confessione lei deve sapere che se la religione viene presa come guardare uno spettacolo alla televisione cambia canale se una cosa non piace che la confessione sia difficile lo sanno tutti e c'è poi la tendenza di attribuire la difficoltà ai preti quasi che l'avessero inventata loro invece mi ricordo che quando io ero a Gandino c'era uno che mi diceva quando mi dicono che la confessione l'hanno inventata i preti a me viene da ridere perché se dipendesse dai preti il scaiarese al confessionale no? la traduzione lo scaiarese lo farebbero in frantumi anche il confessionale perché il ministero della confessione è uno dei più difficili è uno dei più pesanti se mi permette ovvio o Dio dà anche un'immensità di soddisfazioni dopo però c'è anche questo che per carità ci sono delle volte dei confessori che che esorbitano che che diventano anche direttori spirituali e lo diventano anche magari in un modo un po' invadente in questo caso qui come dicevo prima si cambia canale c'è la libertà il confessore è scelto se un confessore si ha l'impressione che metta mano sulla coscienza e poi il confessore al confessore si deve chiedere la soluzione il confessore non è quello che determina la mia vita se fosse così il vero governatore della chiesa sarebbe il confessore del Papa rimaniamo un secondo sulla confessione ma non si può pensare perché secondo me è un bel gradino e merito una puntata non si può pensare di fare un altro modo di confessione un'autoconfessione l'autoconfessione diventa un'autoassoluzione e quindi da lì non si esce più cioè il problema della religione cristiana è quello del camminare di uscire da se stessi e per uscire da se stessi ovviamente la prima uscita è farla verso Dio se io non sono pentito se io non sono riorientato verso Dio non serve a niente però io devo uscire da me stesso anche con i passi c'è un vecchio grande confessore padre Capello che diceva dopo due passi che io faccio per andare a confessarmi sono già assolto per dire però devo fare dei passi questa frase del Papa merita come tutte del resto ma ce ne sono alcune più semplici questa merita di essere vista bene colui che isola la sua coscienza dal cammino del popolo di Dio non conosce l'allegria dello Spirito Santo che sostiene la speranza si vuol dire questo lei prima parlava di autoassoluzione e l'autoassoluzione lascia chiusi in se stessi se noi la fede la viviamo indipendentemente dagli altri se noi non ci inseriamo nel cammino ecclesiale dei credenti noi siamo degli isolati e mentre il vivere in comunità dà allegria lui poi usa la parola allegria in spagnolo che vuol dire gioia però è bello sentirlo dire da lui usare il termine allegria che addirittura in italiano è una gioia più grande una gioia più espansiva il vivere la fede in comunità noi abbiamo la tendenza di vivere anche quando siamo in comunità quando andiamo a messa noi sotto sotto noi abbiamo l'impressione di andare a fare le nostre devozioni contemporaneamente agli altri invece no nella messa lasciamo da parte le nostre devozioni personali e lei vede che tutte le preghiere della messa sono con noi lì si ricostruisce la famiglia dei figli di Dio si ricostruisce l'umanità come la vuole il Signore una famiglia concorda una famiglia unanime mi fermo perché io ho qualche difficoltà non nella messa ma un po' anche nella messa ma l'allegria in certe comunità mi va stretta o sono largo io sono d'accordo con lei ma l'allegria la fanno quelli che sono lì se quelli che vengono a messa sono lì ad assistere alla messa non portano un contributo all'allegria la messa sarà una messa da mortorio da istituto dei sordomuti e quindi prendiamoci tutte le nostre responsabilità io sono stufo di messe con spettatori anche se sono tanti più chiaro del sole non si può essere cristiani a singhiozzo bisogna essere cristiani sempre la fede è fedeltà definitiva come quella di Maria questa mi piace il Papa tra le frasi incisive che dicevo ne ha molti di queste frasi cristiani a singhiozzo cristiani inamidati cristiani alla vaniglia o da pasticceria cristiani da vetrina no ecco sono i cristiani che non piacciono al Papa cioè lui quello che 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 crea cerca di creare e di far sentire la bellezza dell'essere insieme e dell'essere credenti continuamente si può io paragono spesso la fede all'amore no può un giovane che è innamorato essere innamorato un po' la mattina qualche minuto al pomeriggio un po' la sera e poi magari una settimana sì una settimana no se l'ha innamorato l'ha innamorato ed è la sua vita la fede è così il Papa torna al matrimonio perché è uno dei lei moti ma non solo del Papa anche di tanti sacerdoti anche di tanti educatori anche di probabilmente proprio perché la famiglia è perfetta della chiesa e dell'umanità del resto purtroppo dice lui ma ce ne siamo accorti tutti nel matrimonio si getta la spugna subito alla prima difficoltà però tra moglie e marito non mettere il dito c'era un proverbio no lui che dice così non poteva evitare di dirlo allora evita di parlare di matrimonio evita di parlare di matrimonio mentre il Papa che c'è un maestro nella fede se è un padre se è un ovviamente sui problemi fondamentali e si esprime oddio dopo c'è sempre qualche uno che dice cosa ne sa lui no cosa ne sa lui io le dico semplicemente una cosa se tutte le persone parlassero solo di quello di cui hanno esperienza diretta starebbero un po' più zitti tutti quanti capito perché noi parliamo di un sacco di cose di cui non abbiamo esperienza diretta però non è in debito delle volte può essere presuntuoso perché non sappiamo niente ma se uno ha gli occhi aperti se uno vive in mezzo alla gente anche le cose di cui non ha esperienza diretta si fa un'idea e può dire un suo parere io per esempio non saprò mai che cosa passa nel cuore di una donna nel cuore di un bambino però se io ascolto le donne se io ascolto i bambini a un certo punto mi faccio un'idea abbastanza approssimata di quello che passa nel cuore di una donna di quello che passa nel cuore di un bambino di quello che passa nel cuore di uno che ha dei problemi di uno che è peccatore di uno che è ricco di uno che è povero incontro casualmente una mia con scritta che mi dice madonna salebrao o il papa le mia che me la farà fo traduzione perbacco come brava il papa non è che me lo uccideranno due messaggi uno il papa è suo quindi tutti lo sentiamo ognuno un pezzo nostro consuoniamo con lui il secondo il pericolo c'è il pericolo c'è in una delle prime domande lei chiedeva questo questo essere popolare no la gente che lo segue i nomi che io ho fatto sono tutti morti di morte violenta gandhi luther king kennedy gesù cristo tranne papa giovanni e però è stato papa così breve però l'hanno ammazzato dopo ne perché ne hanno detto di tutti i colori su papa giovanni anche recentemente per esempio il fatto che il il questo papa voglia beatificare canonizzarlo ha fatto scatenare un sacco di gente che non lo amava paura fisica paura invece ambientale paura che questo papa venga inamidato impaludato venga gli vengano tarpate le ali perché sembra che le currie debbano essere dei luoghi di 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 c'è questa paura le curie sono tutte delle burocrazie quindi non dobbiamo farci delle meraviglie che la burocrazia ha colui che che presiede ma questo avviene in tutti i campi quando se lei prende per esempio certi film su sulla un presidente americano c'è addirittura una persona vicino che gli fa le obiezioni contro a tutte le cose no il pericolo io vedrei questi pericoli quello del dell'ingabbiamento il tentativo per esempio di di addomesticarlo di renderlo più 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 gestibile diremmo così meno sconcertante e io credo che un servizio di quel tipo lì vicino a lui vada bene no e mentre c'è un altro pericolo che è già in evidenza quello del vilipeso ormai anche su tanti giornali su tanti mezzi di comunicazione sociale gli hanno dato del peronista gli hanno dato del comunista appunto gli hanno dato del gesuita ma ti dico una cosa io che mi ha fatto molto male che non mi è piaciuta proprio no hanno detto che ha la faccia da clown no secondo me veramente è proprio di una di uno squallido perché ognuno poi ha la faccia che ha uno ha la faccia che ha e quindi quello del viliped un'altra accusa che gli fanno è il ripetitivo siccome però sono ripetitivo anch'io io ho spiegato una volta ho dovuto spiegarlo ai parrocchiani che in una parrocchia dove sono stato che non è clusone mi rimproveravano di essere ripetitivo io gli ho detto sono come mio papà che le cose me le diceva me le ridiceva me le ridiceva per la terza volta perché erano come chiodi che dovevano entrare nella testa non parliamo del papà non parliamo del signor Roberto Panfi ne parleremo un'altra volta perché è un personaggio a Pentecoste il papa incontra i movimenti quindi tanti movimenti e lì esorta ad aprirsi e dice preferisco mille volte una chiesa incidentata che ammalata per chiusura uscite quindi è una chiesa che mira all'essenziale e aggiunge la chiesa non è un movimento politico lo dico forte e chiaro non è una struttura ben organizzata non è una ONG quindi non è un'organizzazione non governativa mi piace molto Monsignore noti però che questa cosa qui l'hanno sempre detta tutti i papi dopo questo qui fa più colpo perché lo dice cioè la missione della chiesa è chiaro che ha delle ricadute anche politiche vive nel mondo e una voce autorevole crea qualche sconcerto ecco torniamo allo sconcertante anche dal punto di vista sociale e politico questo non vuol dire che la chiesa sia un'organizzazione con finalità politiche così la chiesa svolge un'opera di carità e di assistenza ma non è la croce rossa la chiesa il compito essenziale della chiesa è quello di annunciare Gesù Cristo è quello di trasmettere il Vangelo di generazione in generazione e dopo duemila anni nonostante tutti i suoi peccati nonostante tutte le sue le persecuzioni che ha subito la chiesa è ancora qui che predica il Vangelo qualcuno mi ha detto che l'area opago è breve ma dobbiamo rimanere nei 35 minuti l'ultima domanda il papa citta dal libro del Siracide non essere invadente per non essere respinto ma non allantanarti troppo per non essere dimenticato mi piace anche a me piace però da che parte stiamo noi dobbiamo essere da due parti nel Vangelo Gesù dice fate in modo che vedano le vostre opere buone perché diano gloria al Padre vostro che è nei cieli secondo quando fate qualche cosa fatelo nel segreto in modo che la ricompensa ve la dia il Padre vostro che è nei cieli eravamo all'ultima domanda vi ricordo che la trasmissione viene ripetuta su due canali in una rotazione su Arte Channel l'altro gli orari credo che sottoscorrano ma soprattutto vi ricordo che può essere vista questa trasmissione su Youtube così come su Streamy come andare a cercarlo www.teleclusone.com o .it ma poi nell'internet si cercano queste cose qui e può essere vista in tutto il mondo noi aspettiamo i vostri i vostri messaggi grazie e buona serata buonasera 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 capitolo 17 degli atti degli apostoli Paolo di Tarso incontra gli intellettuali di Atene nell'Areo Pago l'aula delle loro riunioni e dialogando con loro fa il primo importante tentativo di inculturazione della fede cristiana nel mondo greco l'incontro vitale tra il Vangelo e le aree culturali più diverse sarà lungo tutti i 2000 anni della sua storia uno degli impegni più importanti della Chiesa e la sua missione specifica Gesù di Nazareth l'ha creata per questo l'avventura continua anche qui nel nostro mondo l'avventura 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 l'avventura